buonasera cari amiche e cari amici tramonto su otranto questo non è il titolo del video un video che parla di mercato come sempre con qualche ultima notizia ma soprattutto tanta cronaca di quello che è successo oggi cari amiche e cari amici che invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like ai miei video ai miei video oltre mille oltre 2000 tante notizie oggi e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10 ogni tanto mi vedete che allungo il collo per vedere se è arrivata qualche notifica dell'ultima ora dicevo partiamo dalla cronaca innanzitutto scusatemi le bellezze d'italia vanno sempre mostrate e quando si viene a ostuni e oggi a otranto e domani a galatina e oggi sono fatto vedere la cattedrale dico di otranto con dei mosaici meravigliosi del 1100 dopo cristo ovviamente e dunque ti si riempie il cuore il milan è sempre vicino notizie 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 ore 17 giovedì prossimo la prima amichevole il giorno 20 sì il giorno 20 il milan contro il lumezzane che bravamente è stato promosso in serie c che l'anno scorso mise in evidenza i difetti di un milan che poi furono confermati al rientro in campionato tutto sommato anche se contro la roma il milan giocò una grande partita dunque amichevole contro lumezzane il miglior così la migliora l'occasione di vedere Loftus Cic di vedere di vedere Pulisic speriamo di vedere Rainders di vedere Romero di vedere Sportiello bellissime parole oggi di Sportiello nella conferenza stampa un ragazzo molto molto serio è stato unito dal dolore per la tragedia unito a Pioli per la tragedia era un suo compagno di squadra in quel momento di di Davide Astori la sua soddisfazione di essere al milan la sua voglia di mettere stimoli non pressioni stimoli al al suo compagno ma oggi tante cose sono successe poi parliamo di mercato ecco le immagini le immagini dell'arrivo di Pulisic ve le abbiamo già mandate ve le rimando ma poi bellissimo vi abbiamo detto che questa sera alle 20 e 30 sarebbe uscito da museo milan e grande accoglienza che ha ricordato un po' l'accoglienza dei giocatori più famosi quando uscivano da museo milan ricordo uno su tutti cacà tanti tifosi stanno scorrendo prima vi ho mostrato le immagini della di della malpensa ecco lui due immagini prese da due angolazioni diverse io intanto parlo Pulisic una bella faccia un grande giocatore un giocatore importante il milan l'ha preso dal giocatore che costato qualche anno fa 65 milioni al celsi quando è arrivato dal borussia dormund giocatore di alta caratura signori stiamo stiamo mettendo stiamo effettuando una grande campagna di rafforzamento qualità quantità sono molto contento vediamo intanto le basi ci sono poi sentiremo anche paolo scaroni vedo 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 bene vedo bene vedo bene questo questa campagna che deve ancora partire una campagna che ha portato loftus x sportiello romero e pulisic e deve ancora partire poi vi racconterò un po di cose e vi do dei consigli per seguire bene questa campagna acquisti perché voi non cadiate in tante voci giusto per così per parlare ma non è finita dopo avervi mostrato le immagini di pulisic oggi alla malpensa e nell'uscita all'uscita del museo milan l'affetto dei tifosi passiamo all'evento bmw in via monte napoleone vedete ecco l'entrata di tomori e di loftus chic per questo evento bmw è un evento per uno sponsor importante del milan ma poi le parole di paolo scaroni del presidente del milan che manda un monito non vi aspettate ma sentitelo soltanto dire una domanda qua il nostro gioco fa un acquisto alla settimana non pensate che continuiamo così fino al 31 agosto perché mancano ancora fatemi fare il conto quante settimane 10 no non è possibile quindi presidente me la serve su un piatto d'argento quindi per renders dobbiamo aspettare la prossima settimana o prima? nel mio nome non è facile dico fino a oggi un'ora settimana un ritmo niente male presidente cosa mi aspetto da questa stagione per il milan? di avere un milan più forte il milan più forte guardi noi abbiamo un obbligo perentorio che è di entrare in Champions League perché abbiamo visto l'impatto che hanno sul nostro gioco sui nostri giocatori anche sui nostri conti quindi quello è un obbligo assoluto poi tutto il resto che viene presidente oggi tra poche ore sarà ufficiale Pulidic un acquisto americano proprietà americana che commenta ci può fare su questo nuovo arrivo? beh soprattutto un giocatore forte cioè americano potrebbe tutto bello però a me piace perché è un giocatore molto forte è stata un'estate particolare presidente ma è stato un raduno come il solito vi ha sorpreso in positivo vedere comunque tanto entusiasmo i tifosi le bandiere i core l'incitamento mi è piaciuto molto e ho fatto un parallelismo tra chi era a milanello l'altro ieri la nostra campagna non a mente che è da un grande successo perché poi le due cose vanno un po' insieme come tornatevi niente? ah beh comunque guardi allora parlare un po' prematuro parlare di niente diciamo e poi le domande andrebbero fatte l'amministratore delegato e non a me che mi pare abbia cominciato un volto oggi ci sono significativi passi avanti per lo stadio di Sant'Anato-Milaneci ci parevi capire ma significativi è un processo in cui andiamo avanti e guarda questa storia degli stadi e sembra una cosa complicata quindi andiamo avanti il secondo lato come andiamo avanti anche sui altri punti queste le parole di Paolo Scaroni però a voi interessano notizie di mercato tanto è vero che questa rubrica si chiama il punto di mercato allora incominciamo col dire che il signor Reinders il titolo è Allora vi decidete ma non rivolto al Milan rivolto ai dirigenti della Z perché il giocatore non ha effettuato neanche il secondo test mi sembra con lo stand-up a Liegi quindi è chiaro che Reinders è destinato ad andare ed è destinato ad andare al Milan chiaro che gli olandesi tirano, tirano, tirano per sperare di avere la cifra che loro si augurano di acquisire di mettere in cassa però Reinders è come una foglia d'autunno che balla il suo è lì che balla sull'albero al primo refolo di vento cade e viene direzione Milan però non è ancora al momento aspettiamo che ci sia una notizia un comunicato perché il giocatore già ha saltato due test quindi è chiaro ha già un accordo di 1.7 per 4 o 5 anni con il Milan e dunque sembra un giocatore destinato ad arrivare si tratta ancora di decidi di avere l'ok della Zeta Acmar che non credo proprio che voglia tenere contro forza un giocatore che ormai ha la testa già al Milan il Milan non so se effettuerà l'ultimo sforzo è un giocatore che vuole Stefano Pioli e adesso parliamo del mercato vero nel senso del mercato degli attaccanti il vero mercato di rafforzamento perché abbiamo sempre detto che il Milan doveva prendere una fascia destra e un attaccante allora istruzioni per l'uso quando incominciano a dirvi arriva questo e arriva quello non date retta in questo senso il Milan deve ancora ben studiare le strategie per l'extracomunitario dalle strategie dell'extracomunitario si capirà quale sarà il giocatore che il Milan può prendere se si andrà verso Taremi è più facile che arrivi Zax se si va verso Cukvueze cosa non ha ancora stabilita forse bisogna anzi sicuramente si andrà a prendere e lì diventa complicato capire chi un giocatore comunitario finché il Milan e non lo ha ancora perché deve capire bene le intenzioni del Villareal non ha bene in mente la strategia per prendere il giocatore o extracomunitario o comunitario chiaro che tutte le possibilità tutte le opzioni possono essere valide possono essere giuste quindi Taremi la davanti chi io continuo a dire sbagliando sono sensazioni io l'ipotesi scusate se ve lo dico l'ipotesi morata non la scarto ancora è impossibile troppo costoso quello che volete razionalmente avete ragione non lo scarto perché secondo me è il giocatore che vuole Pioli e Pioli conta tanto 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 in questa cosa sono queste campagne in questa campagna acquisti ecco perché metto sempre l'accoppiata favorita Cukvueze per la destra e per la sinistra morata è una mia sensazione però non vi dico sì o no Isaxe non vi dico sì o no Cukvueze non vi dico sì o no Taremi e non escludo sempre un Coupe de Teatre per il centravanti voi mi direte sì ma non mi hai detto nulla certo non vi ho detto nulla perché sarebbe offensivo nei vostri confronti dire qualcosa perché se non ha ancora stabilito il Milan bene le strategie sull'extracomunitario e non so neanche se verranno stabilite così presto perché dipende molto dalla guerra no una brutta parola dalla sfida ecco più bello dalla sfida di logoramento tra il Milan e il Villareal nei prossimi giorni spero di avere un ospite importante che conosce bene il calcio spagnolo per capire bene quale sia la situazione di Cukvueze perché da quel nome da Cukvueze che è il primo obiettivo del Milan sulla fascia destra capiremo anche il movimento dell'attacco quindi signori i nomi non c'è Baccaio Collo l'abbiamo scartato non c'è Emege l'abbiamo scartato adesso vi diranno un giorno un nome un giorno l'altro nomi nuovi non ne sono usciti ma però prima che il Milan stabilisca bene le strategie per l'extracomunitario tutto dipende dall'extracomunitario perché se vanno deciso su Taremi c'è un certo movimento se vanno decisi su Cukvueze oppure potarsi anche altri un extracomunitario lo prenderanno per tenere sicuramente occupata la casella quindi questa è la situazione continuo a dire che il momento più caldo è quella di Reinders vedremo quando finalmente quando si decideranno a dire sì o a chiedere l'ultimo sforzo per il Milan e chiudere questa situazione Reinders deve arrivare presto lo sa Furlani lo sa Pioli purtroppo lo sanno anche gli olandesi ecco perché la battuta tirano l'acqua al proprio mulino mi veniva naturale adesso sembra una battuta stupida perché parliamo di Olanda ma tirano l'acqua al proprio mulino indipendentemente dal discorso dei mulini a vento olandesi signori questa è la situazione vi ho mandato delle immagini di cronaca mi piace io sono un giornalista al quale piace anche la cronaca di tutti i giorni non solo i voli pindarici così mi piace ringrazio innanzitutto il Milan che mi ha mandato le immagini di questa sera di Pulisic ringrazio i colleghi che mi ha mandato Beatrice Sarti e Simone Cristallo di Radio Rosso Nera per le immagini perché io sono qua lontano per le immagini dell'evento BMW cito sempre le fonti e quindi ringrazio i colleghi e se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pilegatti e iscrivetevi al canale